ci troviamo nella prima linea della grande guerra vicino a Margacaino e troviamo questo vecchio manufatto costruito qui in mezzo al nulla vicino la nuova strada che hanno fatto per arrivare a Margacaino questo qua sta a significare che qui l'esercito italiano aveva costruito tutto un villaggio che adesso vi porteremo a vedere il muro dall'altra parte un piccolo ospedaletto da campo e le cucine che adesso vi andremo a illustrare un po' alla volta si parte da quota 700 metri e si arriva fino a quota 765 metri in quel posto qua l'esercito italiano creò tutta la sua logistica per praticamente affrontare questo pezzo di fronte qui in questi pianori qua davanti a noi vi era un piccolo diciamo piccolo presidio medico ospedaletto da campo chiamiamolo come come volete voi sotto di qua si scendeva c'era una mulattiera la strada qua che presente non c'era perché la vecchia strada del pallone passava sopra che avevamo già fatto in un vecchio video perciò andate per chi volesse lo va a vedere mulattire che venivano dalla dietro e dopo vi spiegheremo perché quel pezzo qua ve lo dobbiamo ancora spiegare con calma qui sotto c'è un altro pezzo che andremo a spiegare nel prossimo video e noi affronteremo il pezzo che da qua sale fino a 753 metri benvenuti in questo piccolo posto dove siamo noi adesso per raccontarvi la storia di questa postazione come ho detto prima qui davanti a noi c'erano due baraccamenti questi due baraccamenti erano adibiti a la riserva alla riservetta qua sopra se vedete dove finisce il costone appena appena dietro c'era la prima linea da qua scendeva come vedete c'è ancora è rimasto qualche trazza della mulattiera che saliva e andava lì a portare le munizioni infatti qui c'erano le due riservette dove vi erano i cosi dei colpi della postazione sopra qua sopra c'era il baraccamento di attrezzi qua esattamente in questo pianoro qua che saliva qua questa è la parte un po più attiva praticamente nel piccolo pezzo complesso che avevo detto prima facendovi vedere dalla fontanina se andiamo qui invece ci sono gli altri baraccamenti questi baraccamenti qua erano praticamente l'alloggio diciamo del medico barra capitano diciamo di questo piccolo fronte qua il genio infatti era stabilito qua insieme al medico insieme a i come si chiamano i telegrafisti non mi viene il nome adesso comunque tutta la zona logistica praticamente nel fronte qua c'era un altro baraccamento che arrivava fino a qua qua invece vi era come dicevo prima un piccolo presidio medico chiamato anche ospedaletto anche se io non l'ho trovato l'ospedaletto da campo qua però sulle carte viene riportato come l'ospedaletto a malga caino quota e tutto vicino alla fontana era qua dalle carte il problema è che non viene non viene situato come coso logistico invece là sopra ho trovato che viene un altro baraccamento qui sopra non specificato con scritto nel magazzino vedete questo ritaglio qua dove c'ho il dito che era sempre legato alla prima linea che passava di là noi adesso ci spostiamo e andiamo a vedere la logistica che restava qua dietro nel salire adesso c'è qui adesso vi è una strada forestale una strada che è stata fatta per fare delle opere qua nel canale però non ci arrivano con il nostro campamento qui cominciavano esserci dei pianori dove mettevano gli attendamenti per i militari che erano in questi posti si può notare dopo lo farò vedere meglio che in tutto il bosco è pieno di vasche di proiettili perché qua è stato molto è stato molto colpito uno dei punti più colpiti della zona qua del fronte qua sopra c'è un altro pianoro dove venivano sempre gli attendamenti se noi saliamo qui è ancora ben visibile un colpo da mortaio arrivato anche qua in parte c'è un altro e appena appena più avanti c'è un altro e c'è un altro ancora in questo punto ci sono sei vasche da la mina praticamente un'altra è qua sopra qui adesso ci portiamo ci stiamo portando sulla parte del campamento un po più alta e un po più coperta perché adesso vi spiegheremo cosa c'era qua sopra e proseguire verso spiegare la logistica qua voglio far vedere quanto era grande questo questo buco di mina cioè di mina scusatemi di mortaio che è arrivato qua uno dei pezzi più grandi che avevo in linea che vi ho spiegato in un vecchio video barbara qua andate a rivederlo e uno dei suoi colpi è arrivato praticamente fino a qua è ancora ben visibile qua un altro colpo vedete ovviamente tutta la zona qua è stata colpita perché la logistica della italiana infatti se vedete qua sono pochi di mina ovunque praticamente dissipati in tutto questo pezzo di territorio ma adesso io vi porto su per vedere cosa dove era la logistica dove è stata spostata vedete qua ancora è praticamente tutta disseminata e dissestata praticamente la montagna anche la dietro ne vedete un altro molto molto pronunciato niente saliamo salendo nel bosco ci troviamo questa miniatura che vedete qua davanti questa è un'altra vasca da mortaio che ha colpito che ha colpito qui la logistica italiana si trovava in questa posizione all'inizio della guerra poi venne spostata praticamente tutta contro la montagna però non era molto coperta infatti vedete che i colpi arrivavano qua vedete questo ligno sperone di roccia naturale l'hanno usato praticamente per mettere lì dietro la cucina di questi posti vari ritrovamenti effettuati lì sono trovati in casino di gavette forchette tutto quello che è legato alla cucina si saliva da qui dove c'è adesso Trilli qua davanti a noi invece c'era la mulattiera che saliva 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 e andava a trovare il piccolo comando che restava sopra che abbiamo già postato il video per chi volesse andare a vederlo cucina e comando della postazione 850 metri andete a trovarlo lì adesso vi farò vedere l'ultima piazzola che c'è qui per spiegarvi un altro pezzettino di comando cioè il posto che c'era qua e poi ci riusciamo quella piazzola qua davanti invece come vedete quadrata come quella la sopra come questa che c'è qua è un'altra che c'è qua era in parte la mulattiera che saliva come ho detto prima che andava a incrociare la vecchia strada del pallone che restava la insieme al comando che restava esattamente la dove si vede faceva un giro che da qua saliva 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 e arriva praticamente al punto di 850 metri da lì praticamente qua c'era tutti questi pianori come questo abbiamo trovato picchietti tenda perché qui c'erano tutte le tende che a salire andavano fino a praticamente trovare riparo dalla montagna e da tutte le guglie che c'erano qua della montagna per gli attacchi austriaci che arrivavano più o meno fino qua perché le vasche là sotto i mortali non riuscivano a colpire dietro la montagna infatti tutte le vasche di proiettile sono scendendo da qua andando giù al primo campamento è un piccolo video che avanzava e volevo spiegare anche quel piccolo pezzo qua poi spiegheremo le parti sotto poi spiegheremo la gente che è stata qua grazie dei lasciti diari ci troveremo varie piazzole per raccontare la gente cosa faceva qua un piccolo scritto ve lo posso accennare già adesso un bersagliere arrivato qua analfabeta si è fatto scrivere dal suo capitano che tratteremo in un altro in un altro racconto come abbiamo già fatto con altri soldati qua del posto felter corridoni e tutto quello che c'era quando cercarli sulla sul video racconta che dice che qua il posto era molto bello le bombe arrivavano puntuali tutti i giorni e che lui si trovava spaesato per la lingua perché non comprendeva la lingua dei suoi superiori era stato punito per quello ed era molto dispiaciuto dopo questa lettera non so come abbia fatto arrivare perché di solito le censuravano la cosa militare però è arrivata ai suoi parenti me l'hanno fatta avere datata 3 dicembre 1915 parlava della neve parlava di tante cose qua vita vita della praticamente dell'accampamento qua vicino loro non chiamavano marco cammino ma era ma era postazione 750 e niente vi lascio con questo spero di non averlo annoiato troppo con questo con questa spiegazione di questo piccolo campo che anche questo giustizia per quando si va nel bosco bisogna conoscere anche questo e poi parleremo del pezzo che c'è qua sopra è molto interessante i pezzi sotto grazie a tutti